Bene, mi fa piacere vederti, non hai nulla da tenere, no, non dire una parola, so che ti manda, credi vero, mi spiace, ma devo metterti alla prova, dovrei soltanto rispondere ad alcune domande, va bene, che cos'è YouTube per te, espressione di sé, cosa ti appaga maggiormente nel fare video, esprimermi al meglio, cos'è importante per te su YouTube, le idee, cos'è la cosa più importante per creare video che ti soddisfino, l'integrità dei tuoi ideali, che cosa cambieresti del tuo percorso su YouTube fino ad ora, Giovanni, mi porrei prima queste domande, bene, sei pronto per cominciare?